Sono Tarscito, sono qui perché Emilio Tremolada ha girato un documentario film sul mio lavoro. Poche parole per dire questo film, per parlare un po' della mia vita, per parlare un po' della arte e per parlare del tentativo di unione che sto tentando di fare tra me come persona, uomo, e me come artista. Questo è il mio grande obiettivo. Evviva, un augurio di ogni bene a ognuno di voi.